Sarà la Cooper Pool di Salerno la nuova ditta che si occuperà delle pulizie al progetto case presumibilmente da settembre dopo le note vicende e anche le tante polemiche che hanno caratterizzato fin qui la gestione con una ditta completamente inadempiente che non pagava gli operai e con gli utenti che spesso si sono lamentati di pagare dei servizi che però di fatto non sono stati mai erogati. Ma non è la prima novità perché ci sono anche altri interventi che riguardano i progetti case in particolare 5 interventi, i primi per mettere mano a questo complesso patrimonio immobiliare in maniera organica dopo 9 anni. In particolare alcuni interventi sono già stati eseguiti, Paganica, Gignano, Coppito III, Sassa, Sant'Antonio e Bazzano si è trattato principalmente di piccoli lavori per rivarare delle infiltrazioni, per mettere in sicurezza le scale condominali per realizzare anche l'impermeabilizzazione delle coperture o semplicemente per riparare tapparelle danneggiate. L'amministrazione con i fondi a disposizione ha ritenuto di portare avanti subito i lavori più urgenti anche in alcuni map. Gli interventi più consistenti invece sono stati appalti e si realizzeranno entro l'anno. Riguarderanno Paganica II, Coppito III, Bazzano, Sant'Antonio e Cesi di Preturo. Interventi che vanno dalla manutenzione degli elementi legno e metallo alla sostituzione delle parti deteriorate, dalla sistemazione del vano scala che collega i garage al primo livello alla realizzazione di sistema di raccolta delle acque e dei vani ascensori e ancora saranno sistemati i balconi togliendo il legno e sostituendolo con grigliati in acciaio e altro ancora. Saranno sistemati anche delle mattonelle rotte o battiscopa danneggiati sia dentro che fuori. Sono risposte alle sollecitazioni date dai residenti, ha spiegato l'assessore Guido Lils. Abbiamo pensato a dei lavori organizzati per lotti funzionali, ce ne saranno anche altri. Per quanto riguarda invece le imprese di pulizia, questa presumibilmente inizierà ad operare dopo l'estate. Ci vogliono i tempi tecnici per il licenziamento e la riassunzione del personale che dunque confluirà in questa nuova ditta di Salerno.